buongiorno a tutti bentornati al caffè stavamo parlando delle magistrature di roma l'altra volta ci siamo fermati i consoli e i pretori abbiamo visto che questi magistrati coloro che stanno al di sopra perché dotati di imperium militare e civile possiedono un potere enorme perché possono decidere della vita e della morte dei soldati soprattutto possono anche convocare il senato convocare l'assemblea presentare la lista dei candidati e così via però volevo concludere il discorso segnalandovi poi che per loro verrà creata una nuova magistratura quindi una nuova carica perché quando un console e un pretore cesseranno la loro attività poi diventeranno proconsoli e proprietori naturalmente questo succederà quando poi roma si espanderà e creerà il suo grande impero e non prima quindi la cosa interessante è che poi i proconsoli proprietori continueranno a fare il loro stesso identico lavoro però al di fuori del pomerium cioè al di fuori del confine sacro però nel resto d'italia e nelle province la cosa interessante è che queste due cariche non erano previste alla nascita della res pubblica quindi furono istituite solo in un secondo momento per necessità una tendenza che poi diventerà una consuetudine perché inizialmente cosa si faceva semplicemente si prorogava l'imperium al magistrato che era già impegnato in provincia magari per la conquista di un nuovo territorio quindi proconsoli e proprietori continuano comunque ad esercitare un imperium per un lunghissimo periodo di tempo ben oltre l'anno previsto dalla carica che si esercitava invece a roma continuavano a comandare l'esercito e ad amministrare le province quindi un potere enorme che nel corso del tempo poi li porterà ad avere un peso maggiore rispetto addirittura agli stessi magistrati che vivono stabilmente a roma e oggi ci occupiamo dei questori degli edili e poi delle due magistrature speciali di roma ossia il dictator e i censori partiamo con i questori questores viene dal verbo latino querere che significa indagare ricercare interrogare quindi è ovvia e palese la funzione giuridica originaria ed erano eletti dai comizi tributi i questori si occupavano di finanza dovevano gestire l'erario dunque si occupavano della spesa pubblica quindi di tutto il denaro che era gestito e amministrato dallo stato controllavano le entrate e le uscite quindi si occupavano della riscossione delle tasse e soprattutto della spesa pubblica in particolar modo della paga dei soldati per esempio ma anche dell'amministrazione dei bottini e per questa ragione accompagnavano i consules in guerra mentre a roma gestivano l'erario quindi si occupavano della spesa pubblica controllavano persino la fornitura delle truppe italiche quindi del numero dei soldati che tutti dovevano fornire alla res pubblica poi interessante la figura anche degli edili c'erano due patrizi gli edili curuli e poi due plebei nati grazie alle leggi licini e sestie del 367 avanti cristo quindi si alternano nella carica ed erano eletti dai comizi tributi si occupavano della sicurezza e della città ovviamente della preparazione dei giochi quindi dei ludi controllavano la rete idrica e anche la rete stradale e siccome non tutto era pagato dallo stato perché i fondi come ben sapete sono sempre molto molto pochi e allora i magistrati spendevano anche di tasca propria quindi spesso e volentieri possono pagare di tasca propria alcuni giochi oppure pensiamo alle rappresentazioni teatrali io sto pensando appunto a plauto a terenzio a tutti gli autori latini di cui ci stiamo anche occupando finanziavano spesso questi intrattenimenti per il popolo perché più il magistrato spendeva per la res pubblica quindi per i suoi cittadini più in cambio poi loro si sarebbero ricordati di lui quindi avrebbe aumentato il suo prestigio presso il popolo e quindi sperava poi di ottenere in cambio i voti al momento dell'elezione quindi è tutto un do ut des quindi non dimentichiamoci che oltre ad avere una fitta rete clientelare ad essere famoso e quindi ad avere anche una grande fama e un buon nome e soprattutto fama di dignitas quindi avere cioè presso il popolo una grande reputazione una reputazione impeccabile era anche indispensabile poi spendere un sacco di soldi ed erano considerati dei veri e propri investimenti perché poi tornavano indietro sotto forma di voti al momento della candidatura ovviamente si occupavano anche del controllo dei mercati e dei rifornimenti per la città quindi rifornimenti di cibo e di tutto ciò di cui loro avevano bisogno quindi c'era anche la cura annonaria e poi veniamo alle due cariche speciali ci sono i censori e il dictator partiamo proprio da quest'ultimo il dictator non veniva eletto a differenza di tutte le altre cariche ma veniva nominato dal senato insieme i consoli quindi bisognava in un tempo di grande emergenza di crisi scegliere l'uomo giusto l'uomo più adatto sicuramente non c'era il tempo per convocare l'assemblea e per procedere attraverso il voto tra virgolette democratico proprio perché l'urgenza richiedeva una scelta immediata questa carica però durava soltanto sei mesi quindi era una carica temporanea molto molto breve notiamo che non c'è nessuna annualità nessuna collegialità un'unica persona che aveva un potere infinitum dotata cioè di imperium infinitum poteva scegliere di fare qualsiasi cosa di nominare o di destituire di decidere per la pace o per la guerra per la vita o per la morte e soprattutto poteva anche destituire il proprio magister equitum come potete immaginare poi questa carica è sempre pericolosa perché come ben sappiamo poi in futuro verrà usata proprio per creare per gettare le basi del principato quindi dell'impero il primissimo dittatore almeno nella sostanza è stato proprio lucio cornelio silla e poi ovviamente giulio cesare anche se ovviamente è l'iniziatore ufficiale del principato fu ottaviano augusto anche se silla prima e cesare poi utilizzarono questa carica per costruire un potere personale e infine arriviamo la carica dei censori erano due eletti ogni cinque anni dai comizi centuriati duravano in carica ben 18 mesi quindi un anno e mezzo però sono davvero importanti perché pur non avendo imperium come i consoli e come i pretori godevano però di un grande prestigio e avevano un potere particolarissimo perché loro dovevano censire cioè chiamare a voce e registrare uno per uno tutti i cives romani all'interno delle classi che componevano la società romana quindi le classi che facevano parte dei comizi centuriati di cui poi parleremo nella successiva lezione i comizi centuriati erano formati da sei classi l'ultima era quella dei nullatenenti quindi ci sono la prima la seconda la terza la quarta la quinta la sesta e ovviamente erano classificate sulla base del censo quindi i censori sono importantissimi perché inserire una persona all'interno di una di queste classi significava decidere il suo peso politico e la possibilità di candidarsi alle elezioni quindi avevano davvero un compito fondamentale provate immaginare se voi aveste avuto il desiderio di candidarvi ma loro non vi avessero messo all'interno della classe giusta non avreste mai potuto farlo e questa è la cosa interessante quindi per essere eletti soprattutto per avere un reale peso politico di voto avrebbero dovuto inserirvi nella prima classe dei comizi centuriati perché da sola la prima classe aveva ben 98 voti su 193 più della metà e voi capite quindi che tutte le altre non avevano un reale potere decisionale perché di fatto il loro voto era insignificante non contava nulla e si veniva collocati in queste classi sulla base del censo naturalmente cioè sui beni immobili e immobili dichiarati e sul numero di schiavi posseduti addirittura quindi bisognava ovviamente dichiararlo attraverso un giuramento inizialmente ci si recava a Roma poi come potete immaginare il caos sarebbe stato totale enorme quindi per motivi pratici e gestionali ognuno si registrava nella propria località quindi è ovvio che il mio potere decisionale quindi di partecipazione quindi il mio livello di partecipazione politica dipendeva da questi due personaggi da questi due censori quindi è davvero un potere enorme potevano addirittura rimuovere dal senato un senatore soprattutto se accusato di moralità quindi la dignitas della loro carica doveva essere sempre preservata dovevano avere una reputazione impeccabile soprattutto nel caso dell'alta nobilitas e degli equites ovviamente perché nei loro confronti erano molto molto più severi perché il loro peso politico era decisamente maggiore rispetto agli altri nessuno si sarebbe occupato con la stessa solerzia dei nullatenenti. Nella prossima lezione poi discuteremo del senato e passeremo in resegna tutte le assemblee che nel corso del tempo furono create a Roma proprio per gestire la res pubblica la cosa pubblica però se avete già capito da queste prime lezioni non si trattava della democrazia come la intendiamo noi oggi perché di fatto al potere politico quello veramente importante quello che contava quello grazie al quale si poteva realmente far qualcosa era soltanto prerogativa di poche persone di poche famiglie privilegiate che potevano contare non soltanto su ingenti risorse economiche ma soprattutto su una fitta rete di conoscenze e quindi di clientele il potere come avete capito è sempre difficile da condividere con altre persone e chi ce l'ha difficilmente disposto a cederlo quindi la storia romana davvero bellissima ed è importante anche scopriremo anche i vari motivi nel corso del tempo quindi non ci occuperemo soltanto della parte storiografica in senso stretto quindi delle battaglie e di tutta l'evoluzione storica dell'impero romano ma parleremo anche di questi aspetti di vita quotidiana di potere e di come fu mantenuto dalla classe dirigente dell'epoca prima di chiudere volevo anche comunicarvi che in futuro fra non molto arriverà anche qualche lezione su nice perché è un filosofo che adoro che mi appassiona tantissimo e sto pensando di creare anche una rubrica di filosofia perché sono lo dico insomma così sottovoce anche un grande appassionato di filosofia la studio da autodidatta non ho la laurea in filosofia però penso di poter dare anche il mio piccolo e umile contributo anche su questo fronte e soprattutto poi per collegarmi con alcuni autori che faremo appunto sto pensando ad annunzio e quindi secondo me è importante anche trattare qualcosina anche di filosofia magari in pillole magari cercheremo qualche aspetto più importante che sia legato al nostro percorso però non è possibile trattare la nostra cultura a settori sono tutte lezioni che io vorrei mantenere interdisciplinari o comunque il più legate possibile insomma spero che anche questa lezione vi sia piaciuta che vi sia stata utile come sempre vi do appuntamento alla prossima lezione a presto